Nonno mi racconti quando eri in guerra? Bimbo, una volta feci un assalto alla baionetta e vidi una pallottola sfiorarmi l'orecchio. La prima guerra mondiale fu un conflitto che coinvolse anche l'Italia, che entrò in guerra il 24 maggio 1915. L'Italia era inizialmente legata alla triplice alleanza, un'alleanza militare che comprendeva anche Germania e Austria-Ungheria. Tuttavia, il governo italiano era indeciso se entrare in guerra o rimanere neutrale. Le forze che spingevano per l'intervento in guerra erano guidate da Sidney Sonnino, ministro degli esteri, e da Gabriele D'Annunzio, poeta e patriota. Queste forze sostenevano che l'Italia aveva il diritto di rivendicare territori che riteneva appartenerle, come il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e la Dalmazia. Le forze che invece si opponevano all'intervento in guerra erano guidate da Giovanni Giolitti, ex presidente del Consiglio. Giolitti sosteneva che l'Italia non aveva interessi da difendere nel conflitto, e che l'intervento in guerra sarebbe stato disastroso per il paese. Alla fine, le forze interventiste prevalsero, e l'Italia firmò il Patto di Londra, un accordo segreto con cui si impegnava a entrare in guerra a fianco della triplice intesa. L'Italia entrò in guerra il 24 maggio 1915, dichiarando guerra all'Austria-Ungheria. La guerra ebbe un impatto devastante sull'Italia, che perse circa 600.000 soldati. I soldati italiani combatterono su diversi fronti, tra cui il fronte italiano, il fronte balcanico e il fronte africano. Sul fronte italiano, i soldati italiani combatterono contro gli austriaci in una serie di battaglie sanguinose, tra cui la battaglia dell'Isonzo, la battaglia di Caporetto e la battaglia di Vittorio Veneto. La guerra terminò il 11 novembre 1918, con la vittoria delle forze dell'Intesa. L'Italia ottenne i territori che aveva rivendicato, e divenne una potenza di primo piano nel Mediterraneo. La partecipazione dell'Italia alla Prima Guerra Mondiale ebbe un impatto profondo sulla storia del paese. La guerra accelerò il processo di modernizzazione dell'Italia, e contribuì a rafforzare il sentimento nazionale. Tuttavia, la guerra lasciò anche un'eredità di dolore e sofferenza, che l'Italia ha portato con sé per decenni. Ecco alcuni aspetti specifici della partecipazione dell'Italia alla Prima Guerra Mondiale, il fronte italiano asterisco asterisco. Il fronte italiano fu il teatro di combattimenti più importante per l'Italia. I soldati italiani combatterono contro gli austriaci in una serie di battaglie sanguinose, che si protrassero per quattro anni. La guerra sul fronte italiano fu particolarmente difficile per l'Italia, che subì pesanti perdite. La battaglia dell'Isonzo asterisco asterisco. La battaglia dell'Isonzo fu una serie di battaglie che si svolsero sul fronte italiano tra il 1900, 15 e il 1917. Le battaglie furono caratterizzate da un alto tasso di mortalità, e non produssero risultati decisivi. La battaglia di Caporetto asterisco asterisco asterisco. La battaglia di Caporetto fu una sconfitta decisiva per l'Italia. I soldati italiani furono costretti a ritirarsi in massa, e l'Italia perse il controllo di gran parte del territorio italiano. La battaglia di Vittorio Veneto asterisco asterisco. La battaglia di Vittorio Veneto fu la vittoria decisiva dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. I soldati italiani sconfissero gli austriaci, e l'Austria-Ungheria fu costretta a firmare l'armistizio. La partecipazione dell'Italia alla Prima Guerra Mondiale fu un evento fondamentale nella storia del paese. La guerra ebbe un impatto profondo sulla società italiana, e contribuì a plasmare l'Italia moderna. Grazie a tutti.